Ok, allora riprendiamo dal punto in cui siamo arrivati ieri, ossia la nostra soluzione ricorsiva del gioco Razzle partendo da una singola parola. Ricordate ciò che abbiamo fatto, abbiamo costruito un'applicazione che si è in grado di prendere una singola parola inserita dall'utente e dirci se questa parola è presente nella griglia e se sì dove. Quindi io posso inserire zio e cliccando su prova mi dice che la parola zio è presente nelle caselle riga 3 colonna 1, riga 3 colonna 2, riga 3 colonna 3. Se invece scrivessi zia mi dirà che questa parola non è presente, quindi in questo caso stampa un null. Ovviamente adesso dobbiamo riuscire a fornire, irrobustire un pochino questa parte, fornire un feedback un pochino più sensato che non scrivere sulla console, ma perlomeno abbiamo verificato che l'algoritmo dà le risposte corrette, almeno apparentemente. Per poter irrobustire, diciamo, con l'interfaccia e il feedback di questo metodo, lavoriamo semplicemente dentro il controller. Cioè mentre la volta scorsa il grosso del lavoro era dentro il model, adesso lo rendiamo un pochino più robusto e usabile lavorando dentro il controller. Ad esempio, una cosa che è facile fare, sarebbe evidenziare i tasti, i bottoni corrispondenti alle lettere del percorso, così si vede anche visualmente, anziché stampare le coordinate sulla console, visualmente si può vedere questo. Allora questo si può fare, ad esempio, io a me è venuta, dove è andato il progetto qua, Razzle, una possibilità, se ci prendiamo l'fxml per vederla, è agire sulla proprietà default del bottone, no? Una cosa un po' forzata, una forzatura un pochino, però se io prendo un bottone e dico tra le sue proprietà che è il bottone di default, cioè che è quello che viene premuto in automatico quando schiaccio l'invio, visivamente me lo coloro in un colore diverso. Allora, per non dover far cliccare troppo con i fogli di stile, con i CSS, cambiando la forma del bottone, posso semplicemente giocare su questa proprietà per evidenziare i tasti che contengono il percorso che la ricorsione ha scoperto. Quindi, ad esempio, quello che potrei fare è prendere questo percorso e anziché stamparlo sulla console, evidenziare i tasti corrispondenti. Quindi per tutte le posizioni del percorso, trovo qual è il bottone corrispondente e lo trovo attraverso, vi ricordate che nel controller avevamo una mappa che data una posizione mi diceva qual è il bottone, l'oggetto button corrispondente e quindi dovrò fare lettere.getdp, che mi dà il bottone, lettere o letters, forse letters, il punto getdp mi dà l'oggetto button, su questo oggetto button lo posso rendere default, set default button a true. Quindi in questo caso, li evidenzi di un colore diverso. Ovviamente, prima di ciò, dovrò metterli tutti a non evidenziati, perché altrimenti, ogni volta che inserisco una parola nuova, quelli che ho evidenziato rimarranno ancora evidenziati e non capirò più nulla. Quindi, prima di tutto, li devo resettare, tutti, due punti, pause, p, due punti, letters, ah no, letters sono già i bottoni, quindi potrò già fare così, button, b, due punti, letters, punto values. Cioè, poiché letters è una mappa che contiene come chiave la posizione, come valore il bottone, io voglio mettere tutti i bottoni a non evidenziato, quindi vado a prendere direttamente le values della mappa, che sono già i button, quindi button, punto, set default a false. Quindi, tutti i bottoni li metto non evidenziati e quelli che sono nel percorso li metto evidenziati. Questo è puro effetto visuale, ovviamente. Quindi, e non ho più stampato sulla console quell'informazione. Quindi, riavviando il programma, posso scrivere biga e lui mi evidenzia le caselle in cui c'è questa parola. Posso scrivere fuga e mi evidenzia le altre e così via, togliendo quelle vecchie e mettendo quelle nuove. c'è ancora un problemino, nel senso che se scrive una parola che non esiste si arrabbia un tantino con una con un'eccezione essenzialmente dovuta al fatto che qua alla 113 pos P, due punti percorso se percorso è null, ovviamente questo iteratore mi dà errore, ma questo lo possiamo semplicemente controllare tutto questo ha senso farlo se se la parola c'è se è stata trovata. In realtà poi abbiamo dei casi da intercettare c'è la lunghezza zero e la parola che non contiene solamente lettere quindi potremmo segnalarlo, ad esempio, dicevamo con un messaggio noi avevamo la la riga di status che viene popolata automaticamente dal model quando aggiorna la sua property ma dovrei riuscire ad aggiornarla anche da qua ad esempio dirò txt status punto set text parola vuota errore e poi abbiamo detto che devo controllare che ci siano solamente caratteri dalla A alla Z un altro controllo che devo fare prima di passare alla procedura ricorsiva no? controlliamo che ci siano solamente caratteri dalla A alla Z come un modo semplice, rapido è quello di usare parola punto match matches con una regola expression che mi definisce qual è il formato lecito della parola A alla Z A alla Z più conoscete il matching della regola expression? l'avete già visto? no? il metodo match delle stringhe controlla se una stringa è fatta secondo un certo pattern secondo un certo schema secondo una certa espressione no? e all'interno praticamente di tutti i linguaggi di programmazione esiste un linguaggio che permette di costruire quelle che si chiamano delle il Java li chiama dei pattern come espressione regolare si chiama regular expression cioè è una categoria di espressioni che definiscono una famiglia di stringhe possibili e queste regole expression si possono costruire non so se ci sono alcuni esempi qua nella documentazione no? perché come sempre la documentazione è sempre molto asciutta ad esempio posso dire i caratteri deciti sono solamente carattere A oppure B oppure C la parentesi quadre dicono uno tra questi caratteri oppure questo che ho usato io AZ AZ vuol dire un carattere completo tra la minuscola Z minuscola oppure tra la Z e la maiuscola tra la maiuscola e la Z maiuscola quindi dico quali sono i caratteri che possono comparire nella stringa e poi ho degli operatori che sono elencati qua sotto come ad esempio punto interrogativo l'asterisco il più che mi dicono che la parte di espressione precedente è opzionale quindi può esserci o non esserci oppure può essere ripetuta una o più volte oppure può essere ripetuta zero o più volte oppure da N a M volte quindi con questa sintassi un pochino astrusa perché poi è facile cominciare a costruire delle cose quasi incomprensibili posso dire guarda che questa stringa deve avere questo formato il metodo match se mi controlla se la stringa ha il formato che desidero oppure no e quindi è un modo molto compatto per poter controllare che la stringa non contenga i caratteri che voglio voglio i numeri non li voglio voglio la puntettatura non la voglio voglio gli spazi non li voglio nel mio caso il pattern che devo verificare è molto semplice è semplicemente le lettere alfabetiche ripetute una o più volte anzi in realtà le minuscole le potrei anche togliere perché ho appena fatto un tupper case cioè ciò che è rimasto lì è fatto solo da lettere maiuscole una o più volte ripetute se sì va bene altrimenti mi devo fermare allora se non matcha questo questo template questo pattern allora dirò errore caratteri non ammessi ed esco solo se passo entrambi questi controlli quindi la stringa non è vuota e contiene solo lettere vado avanti effettivamente a fare la procedura ricorsiva e a colorare i bottoni corrispondenti altrimenti qui ci manca ancora un else in fondo in cui potete scrivere status punto set text parola non trovata quindi riproviamo ha ragione lui speravo che fosse più buono ma non lo è ho cercato di fare un set text ma lui mi dice guarda che il text di questa proprietà è già collegato al model e quindi non lo puoi modificare tu quindi non c'è tanta soluzione facile senza andare ad aggiungere una seconda riga di stato qua è anche antipatico è pure così quindi devo mettere sentite temporaneamente tolgo il bind perché poi voglio concentrarmi su altre cose poi lo sistemiamo quindi riesco a vederlo non vedrò più i messaggi dal model per il momento ma non voglio imbarcarmi adesso a modificare l'fxml errore parola vuota s4 prova caratteri non ammessi tara esiste tara con q parola non trovata ok quindi però se non funziona sappiamo che funziona sulle singole parole il nostro obiettivo però era anche un altro era quello di riuscire a trovare tutte le soluzioni possibili adesso noi abbiamo una procedura trova parola che è in grado di determinare se una parola c'è o no se sì anche dirmi dov'è allora per poterle trovare tutte potremo semplicemente ripetere quella procedura tante volte una per ogni parola del nostro dizionario poi vediamo se è abbastanza veloce oppure no procedere in questo modo allora per farlo possiamo aggiungere qualche elemento all'interfaccia mi serve almeno un bottone per poter dire trova tutte le soluzioni e poi un'area di testo in cui poterle scrivere queste soluzioni giusto? allora mi serve una textarea che vado a infilare qua in mezzo direi niente non ci riesco a mettere dove voglio dentro la V-box prima di questa H-box qua ok ce l'ho fatta viva qua sotto questa textarea è la textarea in cui andrò a scrivere il risultato tutte le parole che ho trovato e poi aggiungerò un altro bottone lo posso mettere qua risolvi tutto ci sono un po' troppo vicini tutti questi bottoni ma per ora ce lo facciamo piacere esteticamente non è il massimo quindi abbiamo questa textarea a cui diamo il nome txtresult ad esempio perché qui ci scrive il risultato scusate non come prompt come code id quindi questa si chiama txtresult e il bottone risolvi avrà un'azione handle risolvi che dovremo implementare quindi salvo ho modificato l'fxml e adesso la parte antipatica è andare a aggiornare il controller sulla base di questi elementi nuovi dell'fxml quindi dovrò aggiungere tra le varie elementi dell'interfaccia lo metto qua dopo i bottoni prima del label un private fxml un private textarea che è attenzione a prendere quello giusto non è java.avt ma java.fx.sin.control si chiamava txtresult e quindi la possiamo accedere e in più dobbiamo aggiungere una funzione che sia la handle come l'ho chiamata? risoldi Ricordiamoci sempre in Eclipse, tutte le volte che modifichiamo il file fxml, di riaprire il file dentro Eclipse, altrimenti non si accorge che l'abbiamo modificato. Così, lo rilegge e la prossima volta che lanciamo il programma ci fa vedere l'interfaccia aggiornata, non quella vecchia. Ok, Endor risolvi, che cosa fa? Dovrà chiedere al model, dammi tutte le soluzioni. Quindi, mentre per una parola singola la soluzione sarà l'insieme delle caselle, cioè il cammino da fare sulle caselle, per la risoluzione di tutto la risposta sarà una lista di string. Non mi interessa sapere il percorso di tutte le parole, mi interessa sapere quali sono le parole che hanno un percorso, poi se voglio sapere il percorso della singola parola lo vado a verificare. Quindi, in qualche modo, dovrò chiedere al modello, chiamare una funzione del tipo risolvi tutto, oppure prima si chiamava trova parola, chiamiamolo trova tutte. E questo metodo mi dovrà restituire, ricordo, una lista di string. Quando l'utente preme quel tasto, io chiamo il modello, lui mi restituisce una lista di string e queste string le stampiamo nell'area di testo. Non ci sono, in questo caso, input, non devo leggere nulla tra i dati forniti dall'utente. E quindi, dopo che il modello ha fatto il lavoro per trovarle tutte, non farò altro che TXT risalte. Ripulire l'area, dire, ad esempio, trovate TOT soluzioni, che sono tutte punto size, e poi stamparle tutte l'una dopo l'altra. Quindi, for, string, p, s, due punti, tutte, TXT result, punto append text, s più, a capo, e me ne stampa tutte. Ne ho trovate 40 e me ne stampa. Poi, volendo, potremmo ordinare la più lunga, la più corta, possiamo fare tutti i giochi che vogliamo. Ovviamente, il lavoro sporco, quello duro, lo farà il model, che dovrà implementare un metodo trovatutte, crea un metodo trovatutte nel model, e questo metodo dovrà calcolare una lista di string trovate, chiamiamolo così, new array list di string, dentro la quale mettere tutte le parole del dizionario che sono anche sulla tastiera, e poi restituire questa parola, questa lista, scusate. E quindi, parto, scandisco il dizionario. Il dizionario, ricordiamoci, l'avevamo letto all'inizio, dal DAO, non l'abbiamo ancora usato finora, ma l'abbiamo letto nel costruttore del modello. Quindi abbiamo l'elenco di tutte le parole, 700 mila e più. E quindi, per ogni parola del dizionario, se trova parola di questa parola c'è, è diverso da null, allora la parola è da includere in quelle trovate. Fine. E questa lista trovate.ad verrà poi visualizzata. Proviamo a vedere non tanto se funziona, ho abbastanza fiducia che funzioni, se non ho fatto qualche cratinata ovviamente che è sempre possibile, ma quanto tempo ci mette soprattutto. Allora, resetta la matrice, vediamo se funziona con zio. Ah sì, io l'avevo letto in verticale, l'ho trovato in orizzontale, risolvi tutto, vediamo cosa esce fuori. Trovate zero soluzioni. È stato molto veloce, però forse c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere il controller. Chiamano Trova Tutte e poi stampa, quindi il problema sarà in Trova Tutte. Allora, model, mettiamo un breakpoint e vediamo cosa succede. Allora, rilanciamo in debug. Risolvi tutto. Vediamo cosa abbiamo sbagliato. Dizionario. Sì, contiene i suoi bravi elementi. Quindi andiamo avanti. Trova parola. La parola in questo caso è A. E non la trova. Sì, l'A non c'è. Mi hanno trovato l'unica mappa in cui non è uscita l'A. In questo caso c'è la parola AA. Diventiamo vecchi. E ogni volta questa trova parola restituisce null. Vai via. E se andiamo avanti fino a qua, trovate un array list che non contiene nulla. Sì, cosa ho sbagliato? Hai vinto tutto. Hai vinto tutto. Grazie. Perché nel dizionario sono parole minuscole e noi le dobbiamo cercare invece nella nostra tastiera, nella nostra razza, le abbiamo maiuscole. Certamente. E quindi prima di fare la trova parola devo fare la tua upper. Cosa che facevamo sull'input dell'utente ma qua mi sono dimenticato di farlo. Se è così dovremo vedere cose bellissime in cui su questa mappa, che ovviamente è diversa da quella di prima, trovate 62 soluzioni A, A, D, A, N. Adesso perché questa sia evidenziata non chiedetemelo. e queste sono parole che ci crediate o no sono nel dizionario italiano. Cambiamo mappa. Questa sfonda, una di cinque lettere siamo riusciti a generare e così via. Quindi è molto più rapido di quanto non pensassimo. La durata di queste chiamate ricorsive è molto rapida. Anche perché la maggior parte delle chiamate ricorsive termina subito al primo o secondo livello. Perché magari non c'è la prima lettera, non c'è la seconda lettera. Quindi anche se la ricorsione va avanti potenzialmente in realtà si blocca, come vedete, la maggior parte delle parole trovate come terminazione della ricorsione, le trova già al secondo livello, a livello 1. Quindi fai in realtà una chiamata sola ricorsiva. Solo alcune volte devi andare un pochino più avanti. in realtà. Quindi siamo riusciti, data una generica mappa, cioè matrice di Razzo, a trovare tutte le parole possibili del dizionario. Adesso in realtà le regole non sono proprio queste. Perché le parole di una lettera sola non valgono, nel gioco vero, no? Non potete fare una parola di una lettera, dovete avere almeno due lettere, quindi bisognerebbe filtrarle prima nel dizionario. Quindi se la parola .length è almeno uguale a 2, cioè maggiore o uguale a 1, allora faccio queste cose, altrimenti non la faccio neppure, il che lo renderà ovviamente ancora più veloce, perché farà ovviamente meno tentativi e non abbiamo tutte queste lettere sparse, partiamo dalle coppie di lettere. Poi il fatto che ci siano delle cose strane è dovuta al contenuto del dizionario. Allora, questa ne abbiamo trovato una parola di 6, questa è venuta meglio. Se volete divertirvi, per vedere delle parole un pochino più carine, bisognerebbe generare delle mappe, delle matrici, in cui la frequenza delle lettere non sia così sballata. Ma questo è facile da fare perché basterebbe, visto che il dizionario ce l'abbiamo, contare qual è la frequenza di tutte le lettere nel dizionario. Quante volte compare la A in totale? Quante volte compare la B? Avremo 26 frequenze diverse per le varie lettere e poi quando estraiamo un numero casuale, una lettera casuale la dobbiamo estrarre in modo proporzionale alla probabilità di ciascuna lettera. Avete idea di come questo si possa fare? Non lo facciamo ma ci raggiungiamo insieme, così magari provate a farlo. Quindi l'obiettivo che ci diamo è, così avete qualcosa con cui giocare, l'obiettivo è generare matrici in cui la probabilità o la frequenza con cui compaiono lettere sia pari a quella della lingua italiana. Come possiamo farlo? Passo 1, bisogna calcolare la frequenza di ciascuna lettera, la frequenza di apparizione di ciascuna lettera nella lingua italiana. Adesso noi nella lingua italiana non lo sappiamo, diciamo, l'approssimiamolo con la frequenza nel dizionario che abbiamo letto database. questo si può fare facilmente, no? Avremo una mappa in cui ci dice la lettera A compare, che ne so, 150 volte, 250 volte su 700.000 parole o, non 700.000 parole, devo contare le lettere totali, quindi saranno, non so, 3.500.000 lettere, e quindi sarà pari al tot per cento. Non so, 3 per cento. Sto mettendo i numeri a caso, eh, non... Quindi questi numeri sono facili da calcolare. Basta scorersi. Adesso la A conto quante lettere ci sono. Cosa faccio? La somma delle lunghezze di tutte le stringhe. Boh. Poi, stringa per stringa, conto quante A ci sono, quante B ci sono, quante C ci sono, ho questi numeri e li metterò in un array o in una mappa. Quindi, ipoteticamente, ho la frequenza di A, la frequenza di B, e così via, fino alla frequenza di Z. Questa poi c'è una funzione, un array, una mappa, la vediamo. Poi c'è il passo 2, che è quello invece meno intuitivo, è estrarre una lettera casuale con probabilità pari alle frequenze. Allora, noi cosa avevamo fatto prima? Avevamo... è stato il numero tra 1 e 26, anzi, tra 0 e 25, è deciso che se esce il 6 metterò la settima lettera, che è la G, se non sbaglio. Quindi, i numeri, la funzione mat.random mi restituiva numeri uniformemente distribuiti, tra 0 e 25, e quindi io avevo la stessa probabilità di uscita per ciascuna delle lettere. In questo caso no, non lo voglio. Allora, se io sapessi, facciamo un caso semplice, che la A compare nel 20% delle parole, la B nel 10%, la C nel 30%, la D nel 5% e la E nella rimanenza, quindi cosa siamo? 30, 30, 60, 65, 35%. Come posso fare a estrarre, in questo caso, una tra queste 5 lettere, facciamo vita che ce ne siano 5 e non 26, con queste probabilità. Il metodo che si usa prende il nome in gergo di roulette wheel, cioè la ruota della roulette. Quando voi giocate alla roulette, in teoria, la pallina può cadere in un qualunque numero con uguale probabilità, perché lo spazio dedicato a ciascun numero è uguale, sono tutti larghi uguali, calibrati al micron. Ecco, immaginate di avere una roulette invece taroccata, in cui le caselline di alcuni numeri sono più larghe di altri. Allora, la probabilità di cadere in quei numeri sarà tanto più alta quanto più spaziosa nella casellina corrispondente a quel numero. Ecco, qui è esattamente ciò che vogliamo. Noi generiamo un numero uniformemente distribuito, casuale, uniformemente distribuito, tra 0 e 100, e poi andiamo a chiederci, questo numero, il numero che è uscito, chiamiamolo R per random, R è minore del 20%, allora prendo la A. R è maggiore del 20% ma minore del 20 più 10? Allora prendo la B. R è maggiore del 20 più 10? Allora prendo la B. R è minore del 20 più 10 più 30? Cioè vado a calcolare le frequenze cumulative di A, AB, BC, eccetera, quindi avrò dei paletti che sono al 20%, 20 più 10 al 30%, 30 più 30 al 60%, più 5 al 65%, più 35 al 100%. e ovviamente avrò lo 0%. Qui in mezzo scelgo A, se il numero cade qua in mezzo scelgo B, se il numero cade qua in mezzo scelgo C, se il numero cade qua in mezzo scelgo D, se il numero cade qua in mezzo scelgo E. e da qualche parte ci sarà il mio R. Se R vale 24, si mette lì, allora corrisponde la lettera B. Voi capite che poiché ogni valore tra 0 e 100, 0,99 di R sono equiprobabili, però lo spazio che c'è tra 30 e 60 è molto maggiore dello spazio che c'è tra 60 e 65, è molto più probabile che esca la C rispetto alla D. Perché ci sono 30 probabilità su 100 che esca la C, mentre solamente 5 probabilità su 100 che esca la D. quindi questo qua è un meccanismo che si può usare sempre, ogni qualvolta vogliate estrarre dei numeri la cui distribuzione di probabilità non sia uniforme. Allora creo degli slot di ampiezza diversa e poi faccio cadere un numero casuale in uno di questi slot. Allora ho convertito una variabile R uniformemente distribuita in una variabile la lettera non uniformemente distribuita ma distribuita secondo delle frequenze, delle probabilità a priori che decido io. Adesso questo nel Razzle, se volete, ci può servire per costruire la griglia molto più giocabile, con delle parole molto più componibili, molto più vicine a quelle della lingua italiana. Questo meccanismo però teniamolo a mente perché quando faremo più avanti nel corso l'ultimo macro argomento, le simulazioni d'eventi, dovremo simulare l'accadimento di eventi che hanno probabilità diverse. E allora questo qua ci potrà tornare utile. Fine della parentesi del giochino. Chiudo Razzle perché adesso siamo pronti per cominciare ad affrontare un argomento che ho lasciato da parte perché sembrava all'inizio un po' teorico. Cioè la complessità. Adesso trovo anche le slide. Eccolo qua. Cioè noi ci siamo chiesti, fino all'ultimo abbiamo avuto paura, io compreso, perché non l'avevo provato ieri, di quanto tempo ci potesse mettere questo algoritmo a trovarmi tutte le soluzioni del gioco Razzle. Oh, è istantaneo. Beh, allora potremmo passare al Razzle 10x10? Sarà sempre istantaneo? Il 5x5? Il 6x6? Non lo sappiamo. E non è neanche tanto facile provare. O meglio, sarebbe molto facile provare lavorando solamente sul model. Noi abbiamo fatto apposta, perché lo facciamo sempre usando il pattern model view controller, ad avere un model che ha tutti i metodi che servono, in particolare il metodo trova tutte, e lui lavora con un board di dimensione 4. Ma se io al posto di 4 ci metto 5, e faccio una classe test model, che richiama il modello con la board a 5, gli faccio un reset, un trova tutte, e lui lavora. E me ne trova tutte. Non posso farlo con l'interfaccia grafica, se no dovrei diventare cretino e aggiungere tutti i bottoncini intorno, no? Però il model che non ha problemi in interfaccia lo fa. Anzi, facciamolo. Questo size lo facciamo diventare non più una costante, ma un valore di default e aggiungo un secondo costruttore a cui invece questa volta posso passare il size che mi permette, quando costruisco un nuovo model, di specificare la dimensione della tabella. E poi chiamo il costruttore vecchio. Non si può? Maledetto. Facciamo il contrario. Facciamo così. Allora, se ho chiamato new model me ne ha creato da 4. This 4, non so se conoscete queste sintassi, chiamo il costruttore della stessa classe. Quindi è un costruttore che ne richiama un altro. Il secondo vuole la dimensione della mappa come parametro. Il primo non vuole nessun parametro e ci mette lui 4. Così manteniamo l'interfaccia vecchia, cioè tutto il controller di prima continua a funzionare, ma in più abbiamo un altro modo per costruire questo controller. Poi questo 4 qua non mi piace, lo voglio mettere come costante sopra, ma non voglio perdere tempo adesso. se è così possiamo fare una nostra classe test model con un suo main che faccia un po' di prove. Possiamo provare con una dimensione con una dimensione che parte da 4 e poi incremento, fino a 8 magari. e per ogni dimensione crea un nuovo modello gli faccio creare una board e gli la faccio risolvere. e magari misuro quanto tempo ci mette. Per misurare quanto tempo ci mette posso usare posso usare la funzione system.nanotime che mi restituisce l'ora attuale con la precisione del nanosecondo. Quindi un milionesimo di secondo. Poi non è detto che abbia veramente il milionesimo di secondo perché il computer magari non ci arriva con la precisione. però mi dà la precisione espressa in nanosecondi perdono in miliardesimo di secondo non è microsecondi sono nanosecondi però mi dà la precisione massima che il computer è in grado di fornirmi. Quindi posso avere il nanotime prima di chiamare la funzione e poi il nanotime dopo aver chiamato la funzione e dalla differenza dei due so quanti nanosecondi ci ho messo. E quindi potrò scrivere trovate allora size uguale certa dimensione trovate per cento di parole in per cento di nanosecondi. Dove abbiamo la size abbiamo le parole che sono tutte punto size e abbiamo i nanosecondi che sono stop meno start quindi se proviamo a eseguire questo a meno di errori le ho fatte tutte e 4 quindi sono fermato a 8 potrò andare avanti 16 magari anziché nanosecondi lo scriviamo in mille secondi divido per un milione per non avere delle cose comincia a vedere che si allunga il tempo ovviamente dipende tutto sempre molto dalla board sarebbe bello capire qual è ovviamente va ripetuto molte volte per avere delle medie perché appunto essendoci una randomizzazione della board però c'è un trend ovviamente in crescita sembra che vada avanti a 2 a 2 ma ogni 2 righe grossomodo il tempo raddoppia no? mal contato sui 500 secondi mezzo secondo un secondo circa 2 secondi circa 5 secondi circa 8 secondi questo ce l'ha messo 12 13 secondi non so perché vada una coppia forse perché la lunghezza delle parole dispari pari conta qualcosa ma il trend grosso modo è raddoppiare ogni due dimensioni a casa mia si chiama esponenziale questa roba qua no? cioè il tempo atteso di elaborazione cresce esponenzialmente con la dimensione della scacchiera ci siamo fermati a 15 potremmo provare ad andare avanti su dimensioni maggiori così via adesso in realtà aumentare tanto le dimensioni della scacchiera non è che serve a un granché perché non ci sono parole troppo lunghe non ci sono parole a 40 elementi Razzle non è un problema la cui complessità può crescere moltissimo perché alla fine si basa su un dizionario che è quello che è quindi l'albero di ricorsione non potrà mai essere più più ampio che non la dimensione del dizionario fortemente portato dalle lettere possibili però il trend che si intravede è un così a occhio empiricamente è qualcosa che somiglia esponenziale e me lo potevo aspettare forse perché è una procedura ricorsiva che ha un numero di livelli che può crescere col numero di caselle della mappa e il fattore di branching di ciascun livello che può essere 8 poi sappiamo che nel Razzle nello specifico altro che 8 siamo già fortunati se ne troviamo una casella adiacente quindi il branching è fortemente ridotto però abbiamo potenzialmente un numero di nodi della ricorsione che è pari a 8 elevato al numero di livelli e quindi con l'aumentare il numero di livelli possibili la dimensione della matrice può crescere allora anche prima di risolvere un problema potremmo chiederci qual è il tempo presumibile di esecuzione di un algoritmo su una certa dimensione di problema sono problemi quasi sempre che diventano sempre più complicati più lunghi da risolvere man mano che cresce la dimensione del problema stesso allora come facciamo a ragionare un po' su queste cose sui numeri è facile li mettiamo li disegniamo ci facciamo delle idee ma a priori sull'algoritmo quanto è efficace un algoritmo quanto è efficiente un algoritmo rispetto a un altro se ci sono due modi diversi di risolvere un problema quale di due funziona meglio è vero che li posso implementare entrambi e poi vedere chi funziona meglio ma magari a priori riesco a capire se un approccio è migliore di un altro soprattutto se un approccio è migliore di un altro quando la dimensione del problema comincia a diventare enorme quando un problema quando un algoritmo non ce la fa più a gestire problemi di una certa dimensione e mentre un altro ce la fa ancora noi ci concentriamo ovviamente per chi è più semplice sul tempo di esecuzione il programma quanto tempo ci mette in realtà dovremmo andare a vedere molti altri fattori tipo un programma è meglio di un altro se faccio prima a scriverlo se ci metto meno tempo a implementarlo se faccio meno bacchi se usa meno memoria se ci mette meno tempo ma il tempo è solo uno dei fattori di valutazione ovviamente l'analisi può essere empirica cioè eseguiamo il programma e misuriamo come abbiamo fatto qua in modo molto semplice oppure possiamo provare a fare un'analisi di tipo più analitico e nell'analitica dovremmo distinguere e questi sono sempre molto distanti il caso medio dal caso peggiore perché magari un programma di solito termina un tempo ragionevole ma nel caso peggiore potrebbe invece impiegarci un tempo molto maggiore ma anche esponenzialmente maggiore e quindi bisogna essere pronti a questi casi perché parlare di complessità tutti dicono ma la complessità non importa perché tanto abbiamo una legge esponenziale che ci salva che è la cosiddetta legge di Moore che diceva che ogni circa 18 mesi questo signor Moore negli anni 60 non era ancora nato nessuno dei presenti me compreso il signor Moore ha detto mi pare ha osservato dai primi microprocessori che uscivano sul mercato che il numero di transistor e anche la velocità di esecuzione dei processori circa raddoppiava ogni 18 mesi lui non ha postulato nulla nessuna legge ha fatto un'osservazione sui prodotti che c'erano sul mercato ecco ciò che è successo è che a distanza di 50 anni grosso modo questa questa tendenza non chiamiamo legge questo trend si è mantenuto quindi noi ogni 18 mesi due anni adesso si sono un po' più allargati i periodi abbiamo dei microprocessori dei computer che sono il doppio più potenti dei precedenti quindi se un problema ci mette troppo tempo a risolvere basta aspettare due anni e arriverà un computer che è due volte più veloce in realtà non è vero perché un esponenziale non lo batti con un altro esponenziale perché se il problema riesce a risolvere il problema di dimensione 10 e non riesci a risolvere quella di dimensione 11 tra due anni riuscirai con la dimensione 11 ma la dimensione 20 ce l'avrai tra quanto? tra 20 anni forse basandosi sulla pura potenza di calcolo poi faremo poi degli algoritmi in cui effettivamente non riusciremo mai a vederne la fine anche tra i nostri esercizietti quindi sicuramente avere macchine più potenti ci permette di fare elaborazioni più pesanti ma in ogni caso ci sarà sempre un punto oltre il quale l'algoritmo diventa più complesso beh qui sono degli esempi di complessità crescenti dello stesso problema che possono essere affrontati attraverso magari una maggiore potenza di calcolo oppure una migliore implementazione dell'algoritmo allora come formalizzare questo l'algoritmo è qualche cosa che parte dagli input e genera sperabilmente una soluzione gli input su cui l'algoritmo lavora hanno dimensione o complessità diversa ipotizziamo di poter avere una nozione così un po' semplificata di dimensione dell'input penso la dimensione della tabella del razzo la dimensione del dizionario quanti elementi qual è l'entità l'ampiezza degli elementi su cui l'algoritmo deve lavorare e chiamiamolo n no? quindi un algoritmo lo posso dirti quanto tempo ci mette ad eseguire questo problema con n uguale a 27 va bene ma al crescere di n il tempo di esecuzione dell'algoritmo t di n come evolve? cresce linearmente cresce quadraticamente cresce logaritmicamente quindi molto poco cresce esponenzialmente mannaggia che cosa vuol dire cresce? cerchiamo un po' di darci delle basi per capirlo questo va bene è un esempio di un semplicissimo algoritmo di bubble sorting quindi mette in ordine gli elementi di un vettore facendo scambi ripetuti e in media se andiamo a vedere e poi impareremo un po' a fare questi conticini il codice del bubble sort impiega un certo numero di operazioni elementari dove per operazione elementare si intende la somma la sottrazione la confronto l'assegnazione di un valore eccetera eccetera poiché ha due loop annidati ci mette un certo numero di passaggi che è n circa n quadro meno n diviso due passaggi poi in realtà questa è una misura un po' a spanne perché questo guardando il codice c o il codice java se andiamo a guardare effettivamente le istruzioni in assembler che questo programma usa e qualcuno ha fatto l'esperimento ha provato a compilare il programma su varie macchine andato a contare le istruzioni elementari in assembler vede che questi numeri sono diversi ma ciò che rimane quindi su un computer è più o meno veloce perché il compilatore è più o meno furbo perché la CPU è più o meno furba perché le istruzioni hardware sono più o meno potenti c'è una variabilità incredibile che è poi quella che determina l'effettivo numero di millisecondi che il programma ci mette a funzionare ma in tutte queste espressioni c'è un termine N4 vi hanno insegnato ad analisi 1 che al crescere di N per N non dico tendente infinito ma tendente a troppo ciò che conta è solo lui tutti gli altri termini diventano trascurabili rispetto a N4 asintoticamente quindi in qualche modo questo termine N4 mi viene a caratterizzare la complessità asintotica del bubble sort asintotica perché la guardo solamente quando cresce N quindi quando gli altri fattori non mi interessano più parlo di complessità e non di tempo di esecuzione perché dire N4 non mi fa capire esattamente quanti millisecondi ci metto ma mi fa capire qual è la tendenza all'aumento e quindi asintoticamente abbiamo questi numeri di istruzioni eseguiti quindi ovviamente cambiando i processori queste varie costanti numeriche cambieranno diventeranno sempre più piccole perché il tempo speso sarà sempre meno i processori saranno sempre più furbi i compiatori saranno sempre più furbi ma alla fine l'ordine di grandezza della crescita continua a essere N4 perché non è una caratteristica del computer è una caratteristica dell'algoritmo delle operazioni che l'algoritmo fa quindi potremmo avere computer che eseguono quelle operazioni in meno tempo ma comunque quelle operazioni vanno fatte e quelle operazioni crescono al crescere di N secondo N4 una legge quadratica allora per formalizzare queste cose si introducono delle notazioni molto simili ma anche se sono più semplici rispetto a quello che facevate ad analisi per esprimere l'andamento della crescita della complessità di un algoritmo e noi usiamo in informatica queste tre notazioni O grande omega grande e teta grande l'O grande è molto simile all'O grande della matematica ti dà un upper bound un limite superiore al tempo di esecuzione di un programma cioè immaginiamo che al crescere di N il tempo di esecuzione del mio programma sia F di N questa curva qua a gobbe noi possiamo dire che F di N è uno grande di G se esiste una costante C positiva e un valore N0 tali per cui per N maggiore di M0 C per G è sempre maggiore di F l'importante è che ci sia costante quindi vuol dire che da un certo punto in avanti a noi interessa sintoticamente la funzione F è dominata da G o da un multiplo di G quello serve la costante C se mi serve che G venga moltiplicata per 100 la moltiplico per 100 e da un certo punto in avanti questa funzione G domina la funzione F in questo caso vuol dire che F non cresce più velocemente di G non cresce più velocemente di G è limitata superiormente dalla crescita di G quindi qua abbiamo un limite superiore all'andamento asintotico della crescita di F poi poiché C lo scelgo a caso arbitrariamente è libero non mi dà il valore il tempo mi dà solamente l'andamento il limite dell'andamento vabbè qui sono tutte le funzioni le definizioncine matematiche che abbiamo detto a parole qui c'è un esempio di una funzione F che sia il logaritmo di N al quadrato e la funzione che è N G uguale a N allora qui si vede che nel breve periodo fanno un po' di cose strane va da un certo punto in avanti G di N moltiplicata in questo caso per 1 non c'è bisogno di moltiplicarla è sempre maggiore di F di N quindi log di N al quadrato è uno grande di N cioè è dominata da N poi in realtà N non è neanche la cosa più non è il limite più stretto che uno possa indovinare possiamo definire delle funzioni G che siano sempre o grandi ma che siano più piccole più limitate rispetto a N però una per avere una stima più precisa però questa sicuramente N è un limite superiore al log al minuto al quadrato di N quindi è un modo per confrontare delle funzioni per cui ti dice che un polinomio di terzo grado è uno grande di X al cubo cosa mi sono perso? Mi sono perso tutti i coefficienti non dominanti tutti i termini tipo X al quadrato 9 e il 3 anche il coefficiente del termine di grado più alto non mi interessa perché tanto nella funzione G ho la mia costante C che posso mettere a 3 e quindi la scelgo poi dopo quando mi serve questa costante quindi diciamo che questo polinomio è di tipo EO grande di X al cubo quindi dominato dalla crescita di X al cubo o attenzione che è anche dominata da X alla quarta anche da X alla quinta anche da E alla X tutte funzioni che crescono più rapidamente ovviamente a noi conviene denominare l'O grande più limite superiore più stretto possibile perché dire che una funzione è O grande di X alla centesima o di X elevato a X elevato a X che è una cosa che cresce rapidissimamente non ci dà informazioni su che cosa fa F quindi dovremmo trovare un limite superiore che sia valido ma che sia non troppo lontano dall'effettiva crescita poi se vogliamo possiamo anche definire serve di meno ma si può anche definire un termine un limite inferiore al tempo di esecuzione e si usa per questo Omega Omega cioè quelle due gambette che fanno ricordare il fatto che arrivi da sotto che appoggi da sotto che è esattamente il duale cioè una funzione è Omega di G se esiste una costante C per cui da un certo punto in avanti asintoticamente C per G è minore o uguale a F e quindi l'Omega grande di una funzione è una funzione che funge dal limite inferiore della funzione data ci sono dei casi fortunati quando il limite inferiore e il limite superiore sono la stessa funzione a meno di una costante chiaramente quindi se noi riusciamo a trovare una funzione G che è moltiplicata per C1 domina F e moltiplicata per C2 è dominata da F allora abbiamo pinzato la nostra funzione F esattamente in un'altra funzione G che asintoticamente si comporta in modo identico come ordine di infinito diciamo allora in questo caso usiamo θ θ vuol dire sia O grande che Omega grande questo è solo come notazione poi di solito si usa quasi solo Omega grande che è quello che ci importa di più vabbè non non ci mettiamo a fare i compiti di matematica ci sono poi alcuni esempi di funzioni con crescite diverse ma allora questa cosa qui matematica in pratica come facciamo ad applicarla cioè io come faccio a sapere quando ho scritto un algoritmo come cresce la sua complessità come faccio a capire se il mio algoritmo è più o meno efficiente al crescere della dimensione del problema qui ci sono alcuni confronti di andamenti log n proporzionale n n log n questo log linea vuol dire n moltiplicato log n poi c'è tutto il mondo del polinomiale quadratico cubico e poi c'è il mondo dell'esponenziale e più oltre c'è il fattoriale allora vedete che al crescere delle dimensioni del problema ci sono dei problemi che rimangono relativamente gestibili anche se già con un n quadro comincia a crescere ma e dei problemi che a un certo punto trovi un muro quando il tempo di esecuzione cresce in modo esponenziale arriverà a un certo punto un valore di n oltre il quale non vai se no il tempo non lo misuri più in millisecondi comincia a misurarlo in decenni o in secoli perché l'esponenziale è fatto così quindi sarebbe utile che io riuscissi a capire quando sto scrivendo un programma come si comporterà e o come evitare di farlo comportare in questi modi senza entrare nella teoria purtroppo ci sono dei problemi per cui non è nota nessuna soluzione che non sia esponenziale e proprio teoricamente in realtà nessuno è ancora riuscito a dimostrare che non possono essere risolti in modo non esponenziale ma nessuno è ancora riuscito quindi c'è il forte sospetto che non si potranno mai risolvere in modo non esponenziale quindi polinomiare o meno ci sono dei problemi che sono proprio resistenti all'attacco algoritmico punto quindi non tutti non può darsi che non siamo noi a non essere sufficientemente intelligenti da trovare una buona soluzione al problema ma che proprio il problema intrinsecamente non si possa risolvere tanto per avere qualche riferimento al variare di n 10 100 1000 100 1000 1 milione vedete che un problema non so quadratico ti passa da 100 microsecondi di tempo di esecuzione a minuti magari qualche giorno in un range di un milione di volte per un problema un milione di volte più complesso passa da microsecondi a ore giorni un problema che abbia una complessità esponenziale ti passa magari da millisecondi a l'età dell'universo cioè con 10 lo risolvo in millisecondi con 100 lo risolvo già in 10 17 anni quindi non riesco se il problema è esponenziale non riesco neanche a sopportare un ordine di grandezza in più con 10 lo risolverò in una frazione di secondi allora con 100 lo risolverò in mezz'ora un'ora un giorno no in miliardi di miliardi di anni quindi per quello dicevo c'è proprio un muro nessuno di noi è in grado di aspettare così tanto tempo vabbè vi accendo questo poi lo riprendiamo una volta prossima con degli esempi come facciamo a determinare approssimare dato un algoritmo scritto qual è la sua complessità allora ci sono delle regole che ci aiutano a contare quante operazioni elementari il programma fa quindi noi vediamo il codice ci sono 5 regolette semplici che dicono ipotizza che ciascuna istruzione che scrivi ciascuna istruzione semplice impieghino tutte allo stesso tempo chiamiamolo od1 una costante a uguale 0 ci mette un tempo a uguale seno di b più c ci metterà più tempo ma è sempre costante quindi sempre od1 e quindi le differenze nel tempo di esecuzione di ogni singola istruzione non ci interessano ai fini dell'analisi asintotica ci interessano come ai fini del tempo di esecuzione del programma ma ai fini dell'analisi asintotica costante è sempre costante se il programma ha un if o uno switch ha un'istruzione condizionale io devo prendere il caso peggiore cioè calcolo quanto tempo ci mette nel caso in cui la if sia vera sia verificata quanto tempo ci mette nel caso in cui la if non sia verificata e prendo il maggiore di 2 e dirò che l'intera if ha una complessità pari a quella del suo ramo peggiore quel suo ramo di complessità maggiore se ho istruzioni che vengono una dopo l'altra quindi una sequenza di istruzioni chiamo un metodo ne chiamo un altro ne chiamo un altro ne chiamo un altro la complessità della sequenza di istruzioni si calcola facendo la somma delle singole complessità di ciascun passo questo è abbastanza è tutto abbastanza intuitivo quindi se ho f che è oe di n quadro g che è o di n cubo faccio se devo chiamare prima f poi g farò la somma delle relativi complessità quindi la somma di n quadro più n cubo mi dà n cubo come termine dominante quindi se ho una if prendo il peggiore dei due se ho una sequenza di istruzioni faccio la somma di tutti e poi sceglierò il termine dominante di questa somma che ho ottenuto l'ultima regola è quella dei loop che sono quelli che ci fregano se una certa operazione è inserita dentro un ciclo e questo ciclo viene eseguito un certo numero di volte allora la complessità del ciclo nel suo complesso sarà pari alla complessità del corpo del ciclo della singola letterazione moltiplicata per un fattore che ci dice quante volte il ciclo è stato eseguito quindi se io un ciclo dentro un altro due cicli annidati per azzerare un array allora l'operazione di azzeramento dell'array è od1 ma viene eseguita n volte una volta per ogni riga e quindi diventa odn ma queste righe l'operazione sulla riga viene ripetuta n volte per ciascuna colonna e quindi ho un odn4 quindi la complessità cresce essenzialmente quando annidiamo all'interno dei cicli delle operazioni semplici annidiamo all'interno dei cicli o annidiamo all'interno della ricorsione perché anche la ricorsione è un modo di richiamare una cosa più volte queste sono le 5 regolette allora la prossima volta proviamo a mettere in pratica su un paio di esempi iterativi o ricorsivi per farci un po' un'idea della complessità delle cose che stiamo facendo adesso vi lascio una pausa prima di continuare con un altro esercizio grazie a tutti